le caverne di villa magna che vi dovrò raccontare stasera domandai al mio piccolo auditorio radunato come al solito nella solita sala di alpi dovete esserne satolli fino all'indigestione n'è vero o no rispose giannina non so se per sé sola o anche per gli altri ma giacché sembri disposto a condurci altrove permettimi di farti una domanda che conservo in petto da molto tempo che cosa sono le pre alpi che tu hai nominato più volte e che non trovo accennate nei miei libri di geografia pre alpi non è un nome che appartenga alla geografia classica e molto meno all'antica fu creato piuttosto modernamente dalla geografia fisica e dalla geologia questo nome vorrebbe dire in genere i contrafforti delle alpi le montagne che sorgono fra le colline di torino per esempio del varisotto della brianza del bergamasco del bresciano del vicentino e i colossi alpini che formano proprio la cresta delle alpi lo spartiacque della grande catena che separa l'italia dalla francia dalla svizzera e dalla germania quelle montagne talora già ben distinte topograficamente lo sono ancora meglio per la loro costituzione geologica sono principalmente montagne calcare e dolomitiche appartenenti a un'epoca media voi non intendete certamente abbastanza il senso di queste parole ma se io volessi entrare in argomento non ne uscirei né per giorni né per settimane contentatevi di sapere che i geologi studiando le formazioni cioè le diverse masse di terreno di cui il globo si compone alla superficie giunsero a conoscere che esse appartengono a diverse epoche successive e a distinguerle con nomi diversi secondo che vi si incontrano reliquie di animali che vissero nei diversi tempi alcune appartengono a un'epoca primitiva lunghissima detta protozoica che significa dei primi viventi altre ad una seconda epoca pure lunghissima che si chiamò paleozoica cioè degli antichi viventi vengono poi l'una dietro l'altra la mesozoica la cenozoica la neozoica ossia dei viventi viventi di un'età media nuova e nuovissima la serie delle epoche è chiusa finalmente dall'antropozoica che è l'epoca nostra ossia l'epoca dell'uomo che nomi n'è vero le grandi alpi appartengono specialmente all'epoca antiche voglio dire alla protozoica e alla paleozoica le prealpi sono in genere montagne mesozoiche ossia come dissi dall'epoca di mezzo le colline poi rimangono divise su per giù fra l'epoca mesozoica e l'epoca cenozoica che significa ve l'ho già spiegato epoca recente epoca nuova in via topografica poi le prealpi disegnano dalla parte dell'italia quasi un arco interno concentrico cioè parallelo al grande arco descritto dalle alpi costituiscono direi un primo spalto interno di questa grande fortezza che difende l'italia dal nord europa le prealpi quasi ovunque si accostano assai alle alpi e le due catene si toccano e si fondono in una con le rispettive basi via tuttavia un lungo tratto dove esse formano davvero una catena affatto a sé rimanendo separate dalle alpi per via di una grande depressione ossia di una grande valle parallela alle due catene che essa distingue e disgiunge anzi quando si parla delle prealpi si intende propriamente quella parte di esse che anche geograficamente appare affatto distinta dalle alpi essa comprende le montagne che sorgono a nord della provincia di como di bergamo e di brescia tra il lago di como e il lago di garda e quella gran valle che le disgiunge dalle alpi è la valle dell'adda ossia la valtellina diretta su per giù da ovest a est parallelamente all'asse cioè nella direzione delle due catene le vere prealpi ossia le prealpi lombarde cominciano ad ovest dove l'adda sbocca alla estremità settentrionale del lago di como col gruppo del monte legnone e continuano verso est col pizzo dei tre signori col corno stella col pizzo del diavolo e quello di cocca e più in là con le montagne che separano la valca monica dalla valtellina fino al monte gavia dove le prealpi si riuniscono alle alpi per mezzo di quella grande cortina che si spicca dalle alpi direttamente da nord a sud e vanta le alte cime del corno dei tre signori e dei monti tonale airo ad amello eccetera come contrafforti dei grandi gruppi menzionati corrono in linea a loro parallela le grandi montagne dolomite come le due grigne il resegone la raralta la rera la presolana il guglielmo il muffetto eccetera le prealpi principalmente le calcare più esposte a mezzodì e più basse delle alpi raggiungono di rado i limiti delle nevi perpetue se ne eccettuate quella cortina che vi ho detto e i pizzi che rispondono immediatamente sulla valtellina non sono per conseguenza caratterizzate nemmeno dalla vegetazione alpina che dà alle alpi quell'aspetto loro particolare di durezza e di severità mancano perciò alle prealpi i due tratti principali che improntano il paesaggio alpino così sublime e pittoresco per compenso sono ricche di altre bellezze tutte particolari si nota anzitutto in esse il contrasto di effetto meraviglioso davvero fra quelle creste dentate in nude e bianche come scheletri che si tingono d'azzurro sovente nelle giornate serene e di giallo e di rosso al sorgere al tramontare del sole e il verde perenne di cui la perenne libertà ubertà copre i fianchi e i piedi delle montagne tutte rivestendo fino alla cima le colline sicché le aride vette paiono spiccarsi come da una ghirlanda di erbe di fiori chi vuole il ridente il molle il tranquillo il temperato insomma delizie e amenità non va sicuramente a cercarle nelle alpi ma nelle prealmi nelle prealpi specialmente nella zona inferiore dove regnano primavera ed estati che non trovano molto da invidiare a quelle dei paesi più meridionali e questa la regione dei laghi azzurri dei limpidi torrenti dei boschi ombrosi dei prati fioriti dei pingui colti dei giardini incantati delle viti degli ulivi e più in alto dei castagni e dei fagi deve essere dunque assai bello il viaggiare nelle prealpi riflette marietta e come non vedi come traggono in folla le nostre belle contrade inglesi tedeschi americani stranieri insomma di ogni paese a cercarvi la salubrità dell'aria l'amitezza del clima i molli incanti di cui la natura fu avara alle loro contrade perché le sponde del lago maggiore e del lago di como sono tutte tempestate di villette graziose di sontosi palazzi di magnifici alberghi né meno ridenti benché meno abitate sono le sponde dei laghi di lugano di seo e di garda nella parte più montuosa peraltro incontreresti ben di rado un viaggiatore che vuoi le alpi specialmente le svizzere attirano i più arditi e quelli che si dilettano di forti impressioni e di bellezze severe alle prealpi non rimangono che i meno arditi vorrei dire i più pigri e questi quando discendono in italia più che la faticosa ginnastica del corpo e dello spirito amano i molli ozzi le tiepide aurette lo lezzo dei fiori i profumi degli aranci tutti poi appena dalla sommità delle alpi vengonsi distese ai piedi sfumare nel lontano orizzonte questo giardino di natura che si chiama italia sentono vive destarsi le reminiscenze della storia e dell'arte tanto feconde e gloriose da noi quanto ferace e bella è la natura eccoli pertanto correre di filati a firenze a roma a napoli a ingolfarsi nei quadri nelle statue nei magnifici monumenti nelle stupende rovine testimoni di quella di quelle miracolose civiltà che si succedettero dagli aborigeni agli etruschi dagli etruschi ai romani dai romani ai comuni del medioevo e da questi sino a noi ma almeno tra gli italiani ci dovrebbe essere una classe media che senza perigliarsi sui pregiudizi e sui precipizi vertiginosi delle alpi e senza poltrire negli ozzi delle città e delle ville si innamori delle forti camminate dell'aria libera e stuzzicante del sole nascente osservato dalla vetta di una montagna delle rupi pittoresche delle verdivallate della cordiale bonarietà dei nostri montanari che si innamori insomma delle nostre prealpi o i più bei giorni della mia gioventù io li ho passati in queste care valli della lombardia su quelle cime ineguali indorate dal sole su quei monti al cui piede si distende l'ubertoso piano che sfuma tra le nebbie leggere del lontano orizzonte ove si disegnano talvolta come nubi sospese nella zona più bassa dell'atmosfera le creste ondeggianti dell'appennino e qual è domandò giannina la più bella delle valli lombarde la più bella ma io direi che la più bella è quella che si è visitata per l'ultima io per esempio mi porto così vivamente scolpita nella fantasia la valle dove ho passato l'anno scorso alcuni bellissimi giorni che essa mi sorride ancora come la più vaga non vorrei peraltro ostinarmi a sostenere che lo sia veramente non hai detto osservò camilla di che valle intendi della vallimagna non sai che l'anno scorso ho passato una parte dell'estate a ponte giurino se non so nemmeno dove sia ripigliò camilla non me ne meraviglio ponte giurino non è indicato neppure sulla gran carta dello stato maggiore austriaco o almeno non vi si trova al suo posto eppure è un sito così bello 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 dico come stazione per godervi il prospetto della vallimagna e come punto di partenza per piacevoli escursioni pigliate una carta di lombardia e troverete vallimagna nella provincia di bergamo col suo confluente nel brembo su per giù a cinque miglia dalla città fra levante e tramontana dove la via maestra taglia il fiume passando dalla destra sulla sinistra la quasi nel cuore della valle ad un chilometro circa dal ponte ve un albergo di buono augurio in faccia una farmacia dei mulini giù in basso qualche casetta più su infine fonte giurino se fosse in lapponia o in seno alle steppe della russia le carte lo segnerebbero come una grande città nella popolosa lombardia è un logicciuolo che appena comincia a far capolino nel rumoroso regno della fama per le sue fonti solforose sorelle ed emule delle celebri fonti di santo mobono che sgorgano in fondo alla valle ma di acque cotali che là si dicono tanto più buone quanto sono più puzzolenti voi non volete saperne in vano vi descriverei il capace e comodo alloggio il sentiero che conduce alle fonti difeso da ombre impenetrabili al sole di agosto le rupi ad anfiteatro e il bosco dove i beventi alternano i lunghi sorsi con le charle coi passeggi coi giochi belle cose ma l'idea di quell'acqua ve le attossica tutte e pensare quanto tesoro di sovrumana pietà la natura nascose in seno a quelle fonti di sì diversa natura disseminato in tutte le regioni del globo spregiate per tanti secoli e ora rintracciate raccolte con cura così gelosa forse facendo le così disgustose e nauseanti volle natura maestra di virtù tanto sapiente insegnarci che di solito una cosa è tanto più salutare quanto meno diletta basta non più acque putride non più prediche stucchevoli parliamo delle bellezze del ponte giurino e mi pare ancora ad essere là alla finestra di quel confortevole albergo posto quasi in grembo a una rupe dove vedevo ritte di fronte le brulle vette dell'albenza sorrette sorrette da pareti verticali di nudi stradi calcarei quasi da ciclopico muraglione le sue fondamenta si celano sotto i colli prativi sparsi più in basso di folte macchie di castagni di noci di querce che sempre più si allargano si addensano si fondono in una sola boscaglia di vari aspetti fino al breve piano ove serpeggia limagna di cui sentivo lo scroscio spingendo lo sguardo su a destra verso il fondo della valle scorgevo una gola angusta nera profonda troppo più piccola della via mala ma più pittoresca uno dei cannoni del rio colorado in miniatura due rupi fantastiche ritte sull'ingresso della gola sembrano gli stipiti smossi e rossi dai secoli di un'antica saracinesca spumeggiando ne sbuca il torrente e tosto smesse le ire serpeggia tranquillo nell'angusto piano e or si asconde e ora appare con l'ene mormorio tra le file dei pioppi che la sete perenne tiene avvinti ai margini delle perenni correnti da allora il vento soffiando nelle folte chiome imitava il suono del torrente e le due voci si confondevano in una vedevo allora le foglie sempre inquiete agitarsi rimescolarsi arruffarsi presentare e sottrarre cento volte nello stesso istante un nembo di specchietti quasi metallici ai raggi del sole che guizzano danzano ripercossi come sulle onde di un laghetto increspato dallo zeffilo spesso facendo una passeggiatina di un quarto d'ora all'ingiù vedevo la valle restringersi di nuovo e di nuovo accostare gli irti petti le rupi il ponte il ponte con ardita curva quasi sospeso nell'aria unisce le due sponde limagna si rintana un'altra volta come strizzata entro una seconda via mala quasi studiando il passo tra punta e punta tra scoglio e scoglio la sua voce langue svanisce le sue acque prima di terzo cristallo quando non biancheggiano spumeggiando si tingono di verde cupo poi di livido e di nero giù in fondo tra le tenebre non mai snidate dal giorno un alternare quasi di specchi d'inchiostro e di sprazzi di neve così sfugge limagna impaziente di raggiungere il brembo col brembo ladda con ladda il po col po il mare ove le acque pellegrine forse da secoli nei campi dell'atmosfera in seno alle valli o nelle viscere della terra per mille diverse vie ritornano al non mai obbliato convegno oh com'è bella questa valle quasi una conca ellittica scavata in seno alle montagne con le sponde di lividi calcari e il fondo di neri stisti che sembrano carbone ma riccamente coperta di boschi di prati di colli e su quel manto di lieta versura rotto da severe bizzarre rupi spiccano gli sparsi casolari i paeselli le chiese e le torri quando il cielo è azzurro la valle somiglia ad un vaso di smeraldo storiato con un coperchio di zaffiro trasparente ma via fa egli bisogno di andare nella valli magna per udire lo scroscio dei torrenti per contemplare limpidi cieli aeree montagne pittoreschi di rupi e boschi prati la valli magna non è direi che un tocco di pennello sulla gran tela delle nostre prealpi che la natura dipinse con tanto amore o le nostre valli lombarde se l'una è bella l'altra è più bella e la scolorita e monotona sarà più utile che vi intrattenga di ciò che ha di speciale di proprio quella piccola valle potrei dirvi per esempio che quelle rupi nude sono banchi di corallo che quegli strati di calcare sono letti di conchiglie marine e tante altre cose perché io ho percorsa la valli magna per lungo e per largo ho salito quasi tutti i suoi giochi varcati i suoi valichi quante ricchezze per lo studioso della natura ma aspettate invece di viaggiare a cielo aperto viaggeremo sotterra cioè sotterra dico poiché quella bellissima valle vanta un mondo sotterraneo io non conosco altro luogo in lombardia ove in sì breve spazio si celino tante caverne tane un giorno di belve feroci o dalla fantasia delle età più barbare popolate di spettri e di paure non sono altro in oggi che silenziosi recessi ove più forte ragione il sentimento di dio e della natura di tre caverne soltanto vi parlerò sono anche le più visitate dai curiosi e dovrei aggiungere dai devoti per l'uso a cui fu ridotta la prima di esse la corna busa da cui piglio le mosse partendo da ponte giurino si sale a ritroso dell'imagna la strada maestra fin sotto a ceppino una terricciuola in alto sulla destra del fiume a cui si giunge attraversato il ponte per erta salita là di fronte una rupe ignuda uno degli sproni dell'albenza e lassù a mezz'aria appiccicati allo scoglio come un nido di rondini una casa e un campanile vi si arriva per una specie di faticoso viale a chiocciola la via ben tenuta e i tabernacoli benché non ancora dipinti distribuiti sui gomiti di essa vi dicono tosto che vi avviate verso un santuario se ne dubitate ve ne accerteranno le persone che incontrate per via forse una pia madre che lasciò il bambino sorridente nella culla in cui l'era già parso di vedere una tomba e viene a sciogliere il voto pronunciato tra le ineffabili angosce del cuore materno forse la figura sparuta d'un montanaro il cui viso semispento vi narra la dura lotta vinta dalla sua robustezza sulla violenza del morbo forse un paralitico un rattratto sorretto e portato sul cui volto fisola in alto brilla pure un raggio di speranza ma che c'entra direte voi tutto codesto con la caverna ormai ci siamo ecco la casa ecco il campanile ci sarà dunque una chiesa le campane sono a messa ma la chiesa dov'è la chiesa è la caverna o se meglio vigarba la caverna è la chiesa una bella novità architettonica n'è vero questo tempio è assai più antico di tutti i templi del globo fu costruito dalle mani stesse della natura chissà quanti secoli prima che l'uomo imparasse a piegarle ginocchia sulle volte dei templi la rupe che volge la fronte alla valle dalla parte ov'è l'edificio si tronca bruscamente ad angolo retto e presenta un'altra fronte verso il fondo di essa questa seconda fronte fa parte ad un burrone inciso profondamente in seno alla montagna è proprio una parete a picco scavata nel mezzo da un altro quadrato dell'altezza di forse 10 metri largo il doppio l'interno è nudo e vi si contano i grossi strati calcarei sovrapposti con breve inclinazione che ne formano la facciata al di fuori e le pareti al di dentro a somiglianza di gigantesco bozzato un grosso banco calcareo vi si appoggia tutto d'un pezzo in figura d'immenso architrave formando la volta o meglio il soffitto di quel grande pertugio e sostiene una grande pila d'altri strati regolarmente sovrapposti che formano tutta la rupe fino alla cima là in fondo alla distanza di forse 15 metri dall'ingresso della caverna si erge un tabernacolo aperto sul davanti e protetto da una cancellata di ferro sotto il tabernacolo un altare con l'antico simulacro della madonna della corna busa in gran venerazione presso le semplici popolazioni della val di man di valli magna e delle valli circonvicine la religione in ciò che ha di lieto o di terribile si accordò sempre con quanto la natura ha di più bello o di più severo la religione la religione dei sensi cioè il paganesimo popolò di ninfe e di fauni i boschi e le valli ora la religione dello spirito cioè il cristianesimo predilige anch'essa i luoghi più incantevoli della natura per esercitarvi il suo culto ciò vi appare in modo singolare nelle nostre montagne dove su ogni vetta più cospicua trovate una croce su ogni poggio più delizioso una chiesa e in ogni sito più ombroso e solitario un tabernacolo qui un altro severo è dedicato al culto della vergine figurata della mistica colomba che si cela nei fessi della rupe come dice il testo della cantica scritto a grandi lettere sulla facciata del tabernacolo in nessun altro luogo forse vi sentireste meglio nascere in cuore quel sentimento religioso vago indeterminato ma pure profondo che si accorda così facilmente con le tenebre col silenzio con la solitudine voi qui siete liberi di immaginarvi la grotta di san paolo remita le solitudini della tebaide le catacombe fantasia sia pure ma ci resterà pur sempre qualche cosa di vero il sentimento di dio che si associa spontaneo a quello della natura se dio ha il suo tabernacolo nel sole e la terra pesgabello ai suoi piedi il suo sguardo penetra gli abissi ne riempie il seno d'oro e di gemme e pili per gli inestricabili labirinti dove regna perpetua la notte vi guida con sicura traccia le sorgenti a trovare la luce del giorno il geologo del resto non ci trova altro lassù che una una semplice caverna io la credo formata al modo stesso di quasi tutte le caverne calcare essa non è altro infatti che parte di una vasta spaccatura della montagna l'abbondante stillicidio anzi le vere sorgive che si scorgono in fondo alla caverna dietro l'altare condotte ad arte a formare un bel getto perenne a modo di fontana saliente sull'ingresso dell'antro possono considerarsi come indizi di una crepatura che si interna dio sa quanto nella montagna e la raccoglie lo stillicidio ma la crepatura non appare evidente nell'altro stesso nell'atto che la montagna si spaccava da cima a fondo una porzione degli strati aderenti alla destra parete sdrucciolò sul piano superiore della sinistra e rimase come dissi a modo di soffitta sul vano che ne risultò vi sono spiegato abbastanza allora andiamo avanti dalla severa maestà degli altari di scendere adesso alla burlevole amenità della cantina è un bel salto davvero ma che volete anche dante sapeva acconciarsi nella chiesa con santi e in taverna con ghiottoni la seconda caverna a cui vi voglio condurre è infatti una cantina si trova a rota fuori che dista da ponte giurino un'ora e mezzo di comoda strada è un ameno villaggio posto a cavaliere d'un verde sperone che spiccandosi dalle basi del resegone divide in due il fondo della valle creando la valsecca a ponente e la vera vallimagna a levante il campanile di rota fuori ritto nel punto più eminente potrebbe servire di faro alle due valli gli archeologi non avranno per ora a far troppo consumo della loro vena inventiva per accertare l'etimologia della nuova caverna che dal nome dello scopritore e proprietario signor angelo d'aina oste pizzicagnolo tabaccaio e non so quant'altre cose di rota fuori si chiama semplicemente caverna del d'aina previa una buona colazione in compagnia di allegri amici ad un desco a cui un inglese non avrebbe rifiutato il titolo obbligato di confortable accessi i accesi i moccoli infilammo un certo bugigattolo e giù giù per una specie di rompicollo a scalini fin dove l'arte cede la mano alla natura che completa col più bizzarro degli specchi l'edificio della più bizzarra cantina l'ingresso del naturale sotterraneo è guardato da un esercito di bottiglie distribuite in file e pelottoni da d'arma carica si intende e in atto di presenta di presenta arm ma l'esercito si tiene come dissi ai confini il proprietario ebbe infatti il talento non comune di rispettare far rispettare il vago ordito dalla natura a cui essa attende certamente da molti secoli e che l'uomo di solito rompe sciupa in un giorno senza cavarne partito ho visto tante caverne con le stalattiti ma nessuna mai in linea storia naturale che mi offrisse un aspetto così originale parlo della forma singolare delle stalattiti e specialmente delle stalagmiti richiamatevi alla fantasia le 40 ore specialmente in campagna quando il buon villano conta con trionfo le centinaia di cieli ardenti lieti di aver vinto alla prova il villaggio vicino vi ricordate di quella specie di disordine simmetrico di quell'effetto bizzarro prodotto da tanti moccoli lacrimosi che spuntano infissi lì lì per lì sui candelabri mediante certi congeni di nuova maniera per comporne tanto più bella quanto più densa una fitta di alberelli ritti bianchi sfrondati quasi un boschetto di piccole antenne ebbene alcune che di somigliante vi presenta lo sfondo di quella caverna le stalattiti per solito veramente coniche qui sono quasi assolutamente cilindriche ma il più singolare è che la stessa forma presero le stalagmiti mentre d'ordinario presentano altrove quella di una irregolare incrostazione ondosa irta di cumuli di cunicoli o dove il lavoro è più fortunato ad orna di strascichi panneggiamenti conche e bacini in vedere quelle stalagmiti spiccarsi dal suolo come le stalattiti pendono dalla volta le une e le altre in forma di bianchi cilindri la è cosa che fa meraviglia non fa che ripetere la similitudine immaginatevi dico un bosco di cori quali pendenti dalla volta quali nascenti dal suolo a cento a cento di tutte le lunghezze di tutte le grossezze dalla candelina al cielo pasquale modesto e nano però non raggiungendo nessuna di quelle di quelle concrezioni un metro di altezza dalla più piccola che forma un tubetto del calibro e della trasparenza ad una penna d'oca che gocci in tinta nell'acqua tu giungi per mille gradazioni alla mazza robusta compatta nodosa di vero alabastro da cui l'opposto lume traspare e ancora con una luce sfumata d'aurora il naturalista avrebbe certo da scrivere qualche pagina intorno a quelle forme eccezionali ma voi potete contentarvi di due parole la persistenza dello stilicidio sugli stessi punti la sua lentezza la tranquillità spiegano abbastanza come le concrezioni risultino quasi cilindriche tuttavia nel non sono a tal segno da smentire totalmente la forma caratteristica di quei geniali prodotti della sotterranea natura infine sono coni anch'esse ma ad angolo così acuto da simulare a chi li guarda la forma di cilindro il naturalista può fare un'altra osservazione nella caverna del daina anche i bambini sanno che le stalattiti sono il prodotto delle acque in cui è sciolto il carbonato di calcio che esse depongono nell'atto che svaporano nell'interno benché l'acqua trasudi anche attraverso la roccia compatta che è sempre più o meno porosa lo stilicidio avviene di preferenza come naturale dove la roccia sia fessa le stalattiti seguono perciò in via ordinaria le fessure e le vanno saldando rappresentano cioè con termine accademico le suture e con parola popolana le costure della caverna qui il fenomeno è parlante la caverna infatti è formata di strati di strati calcarei che si fendono facilmente e mostrarsi in tutta la valle divisi in prismi quadrati irregolari mediante un sistema di crepature che si incrociano disegnando quasi una rete a maglie quadrate or bene quel bosco di cilindri stalattitici a prima vista così disordinato si risolve quasi in tanti filari paralleli incrociati da altri che li intersecano ad angolo retto e rivelano in tal modo con la loro disposizione quel sistema di fenditure che nascondono col loro corpo un'ultima osservazione basta ogni grotta in cui si mette il piede per la prima volta può essere uno di quei meravigliosi cimiteri di belve ove ad un tratto il geologo si trova vivo in un mondo che fu anche in questa caverna dunque mi chiusi mi chinai tosto a guardare e a frugare e fui tanto fortunato da estrarre alcune ossa dal fango che mi parve liberato di fresco dalla crosta stalagmitica che lo ricopriva non ho ancora istituito quei confronti da cui risulterà se la scoperta abbia come credo qualche importanza usciamo finalmente dalla seconda caverna per visitare la terza essa è lì presso discesi per cinque minuti sotto l'osteria in un borro coperto di verdi tappeti sul pendio dello sperone che guarda oriente eccoci alla porta di una casa colonica dove troviamo le chiavi della tomba dei polacchi e i custodi che ci faranno da guida tomba dei polacchi disse ridendo giannina che c'ha ella che fare la polonia con la vallimagna indovina la grillo gli è come d'un burroncello che incide la montagna tra l'albenza e resecone per cui discende in vallimagna chi viene dal lago di lecco e lo dicono il ponte degli spagnoli per poco si cammini in questo passo ti trasformano la vallimagna in valle di giosafatte forse quando limagna era nei domini della serenissima forse quando i lanzichenecchi invadevano la casa di don abbondio il quale intanto per questione di sicurezza personale si direttava di studi topografici proprio sull'opposto pendio dell'albenza dove era il castello dell'inominato forse allora batte la pesca sento che mi farei più onore narrandovi la storia della vallimagna di 1 2 10 milioni di anni più addietro mette conto al geologo l'occuparsi di avvenimenti che rimontano soltanto a qualche centinaio d'anni dunque la tomba dei polacchi è una caverna che si chiama tomba dei polacchi e noi scendiamo a visitarla dalla casa colonica che vi ho detto con guide moccoli e rami fessi di piante resinose che si accenderanno per far lume si discende ancora attraverso i prati ove lo sguardo è tosto colpito da un fenomeno singolare benché non nuovo a chi abbia bazzicato alquanto per i paesi montuosi mi ricordo di averlo osservato più volte in lombardia ma l'ho notato specialmente nel giura dove costituisce uno dei tratti caratteristici di quella tipica orografia da cui i geologi pigliarono a presito fino il linguaggio che esprime i rapporti generali tra l'orografia e la geologia i celebri valloni di quella catena o altipiano ondulato come meglio si chiamerebbe che si assomigliano a grandi barche a fondo piatto lunghe fino a sette miglia spesso non hanno emissario chiusi perfettamente da un orlo di rupi rivestito di folti boschi che si rileva all'ingiro appunto come fanno le sponde di una barca si dovrebbero trasformare ben presto in altre tanti laghi ma ciò non avviene perché dove se ne va l'acqua che vi piove in abbondanza essa trova sui margini del ballone certe fosse a forma di imbuto dette en posie e vi si perde scendendo nelle visce della montagna precisamente come il vino nella botte la montagna fa davvero l'ufficio di una gran botte secondo gli studi del signor de sor professore di neucta neucatel o dalle spine naturali di esse sgolgano centinaia di metri più in basso le sorgenti che bagnano abbondantemente i piedi degli alti piani tornando a noi né di scendere verso la caverna si osservano non uno né due ma una serie di numerose di quegli imbuti del diametro del diametro di 5 da 5 a 20 metri e della profondità di 8 a 10 dentro i quali la pioggia si raduna improvvisando talvolta dei laghetti che ben presto scompaiono quegli imbuti distribuiti regolarmente sopra una linea di forse 400 metri dicono al geologo una lunga spaccatura lineare per cui l'acqua si perde in seno alla montagna esistono hanno quella forma per un effetto dell'erosione che da secoli vi esercitano le acque affluenti sempre verso gli stessi centri voi mi intendete al certo ma già nella caverna ci intenderemo ancor meglio la fila degli imbuti termina con uno più profondo degli altri in forma quasi di cisterna in fondo alla quale avvi un pertugio difeso da un uscio armato di serratura aperto l'uscio si penetra addorso curvo nel pertugio ma bentosto si è ritti sotto la volta alta e spaziosa di un altro buio affatto l'acqua sgocciola da tutte le parti e sode da lontano il rumor sordo d'un torrente sotterraneo non possiamo inoltrarci che a patto di passare un piccolo mare di fango così molle così appiccicoso che se non riesce a farci sdrucciolare si vendica facendo da cava stivali valicato il pantano eccovi un saliscendi di scogli di massi accatastati che rendono assai malagevole l'andare ma intanto voi gustate a tuttaggio le mosse ardite le svolte pittoresche d'una magnifica caverna tutta seni e ridossi ove le faci agitate rotate le destano un mondo di ombre fantastiche che sgorgono e scompaiono fuggono e si avventano si intrecciano e si addossano in un rimescolio indefinibile tuttavia per quanto si dica di quella caverna il pennello che volesse ritrarla non sarebbe soccorso che dai trovati più volgari dell'arte la tomba dei polacchi è bella perché è una caverna perché è vasta irregolare accessibile per 150 metri e un dipresso volsi cosa molto probabile che abbia diverse braccia e si prolunghi assai in altre direzioni solo che ci si reggesse l'animo di infilare carponi in certi buchi ma io non mi sentivo in lena di farlo non essendovi sollecitato e solleticato da nessuna speranza di scoperte paleontologiche del resto non c'ha nulla di singolare il primo che si introdusse in quel piccolo mondo sotterraneo ebbe certo a godere lo spettacolo di bellissime starattiti ma pensate ora dopo tanti anni che è visitata da centinaia di curiosi si insozzano di nomi e di insipidi detti i più squisiti monumenti dell'arte il vandalismo dei brutali ammiratori giunge a smagliare i mosaici di veneranda antichità a spezzare i marmori freggi e fino a decapitare le statue lo sanno il duomo di milano la certosa di pavia le antichità di roma e i monumenti di tutta italia e si rispetteranno le stalattiti l'usso menzionato servirà di difesa alle ultime reliquie di quei monumenti della natura vi si ammira ancora per esempio una stalagmite in forma di colonna acuminata che si direbbe da lontano un rudere di certi graziosi monumenti del 1400 istoriati così in maravigliosa eleganza ma anche qui come si suol dire da noi lombardi si è chiusa la stalla quando era scappata la cavalla infine la caverna interessa soprattutto per fenomeno che vi ho detto cioè per i suoi rapporti evidenti con gli imbuti già descritti voi avete di fatti già inteso che la crepatura lineare indicata da quegli imbuti è appunto la caverna in questo sistema di fognatura naturale gli imbuti rappresentano le fogne e la caverna il recipiente o la cloaca che scarica l'acqua chissà dove dalle volte della caverna che si svolge precisamente sulla linea degli imbuti l'acqua piove tanto più abbondante quanto più il tempo è più oso un torrentello che sbuca già grosso da un pertugio inaccessibile percorre la caverna per un certo tratto poi sparisce per un altro pertugio del pari inaccessibile come non è certamente alimentato dallo stilicidio che piove entro i limiti accessibili della spelonca così attesta che la spaccatura si prolunga ben oltre quei limiti attraverso ignote regioni ma la conversazione si è fatta lunga lunga arrivederci un'altra sera e in altri siti dove abbiamo tempo tutta una settimana a pensarci grazie 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 grazie